Parte il potenziamento della rete idrica della provincia. Marche Multiservizi mette a terra il suo progetto da 27 milioni e mezzo di euro, di cui 20 milioni ottenuti da fondi PNRR per bonificare e ammodernare più di 50 km di condotte. Dalla progettazione alla pianificazione ora si passa ai cantieri che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026 come imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stanno cominciando i lavori proprio in questi giorni nei comuni di San Lorenzo in campo, Lunano e a Pesaro proprio per la bonifica di una parte delle reti e a Pesaro tra l'altro con l'amministrazione comunale è stata concordata anche un'assemblea pubblica per illustrare il progetto perché comunque durerà diversi mesi i lavori lungo la rete stradale e ovviamente l'impatto con la cittadinanza e il traffico c'è quindi va bene anche sensibilizzare e rendere partecipi la cittadinanza di questo progetto. Chiaramente è un progetto complessivo che riguarda in parte la bonifica della rete che comporterà il rinnovo di circa 50-60 km. Andremo a distrettualizzare dove è possibile la rete stessa e quindi con il lavoro di modellazione dei flussi nelle reti ovviamente ci consentirà di fare dei distretti e quindi ridurre quando è possibile la pressione nelle reti stesse. Quindi questo comporta e consegue il fatto che renderemo più resiliente e più duratura la vita delle reti stesse e anche andremo a ridurre le perdite. Altra parte importante credo sia quella di rendere e andare a sostituire tutti i contattori teleletti per quanto riguarda le partite IVA. Andremo a sostituire nei comuni che gestiamo circa 13.000 contattori e questo consentirà non solo di avere una modernizzazione di questo strumento ma metteremo nelle condizioni anche gli operatori economici di avere un controllo in tempo reale dei loro flussi e quindi dei loro consumi. Questo è importante perché così si renderanno conto anche se sono efficaci e efficienti nella loro produzione, nel loro ciclo produttivo o meno. Azioni che per Marche e Multiservizi vanno in una direzione aziendale di svolta rispetto alle politiche di gestione idrica di mezzo secolo fa. Quando si parla di una visione industriale di questa attività qualcuno si scandalizza ma non è una visione industriale che deve portare a un business secco. Deve essere una visione industriale perché oggi la qualità, la situazione climatica con quello che comporta dal punto di vista della siccità delle alluvioni e anche l'inquinamento dei territori fa sì che sia necessario avere una visione che ci consenta di avere pochi punti di approvvigionamento controllati bene e gestiti nel modo migliore. Grazie a tutti.